La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo L'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati con il nostro appuntamento Con la rassegna stampa andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani In particolare le prime pagine vediamo i principali titoli Partiamo dal mattino nazionale Si apre con il voto ieri per l'autorizzazione a procedere Nei confronti di un deputato di Forza Italia Una decisione che fa già registrare le prime crepe All'interno della maggioranza del governo giallorosso Con il voto spaccato Vediamo giustizia, prime crepe, PD, Movimento 5 Stelle Questo il titolo per il mattino Liti alla Camera per il no all'arresto del deputato di Forza Italia Sozzani Scambio di accuse sui franchi tiratori Migranti Vertice del disgelo tra Macron e Conte Redistribuzione automatica e sanzioni per chi rifiuta Gli articoli correlati dopo la scissione La vera forza di Renzi È l'incertezza È ancora alleanze giallorosse L'inganno delle liste civiche Convergere su candidati civici Facendo un passo indietro come partiti È la proposta irrinunciabile Che Luigi Di Maio ha fatto In nome del Movimento 5 Stelle E i nuovi alleati del Partito Democratico Per le prossime elezioni amministrative e regionali Ancora fronda anti Di Maio Malumori grillini E c'è chi minaccia la scissione del Movimento 5 Stelle Nella fotonotizia Il caso Whirlpool occupata L'autostrada A3 La rabbia degli operai E il ministro gioca l'ultima carta Altre notizie di primo piano Il caso individuata a Napoli Una TV privata Una TV pirata Che trasmetteva i programmi Solitamente trasmessi Dalle reti Sky, Dazon, Mediaset Premium Vediamo il titolo TV pirata Chiusa a Napoli La base europea 5 milioni di utenti Con 15 euro Vedevano film, serie TV E partite di calcio E ancora L'intervista De Siervo La Lega Calcio Ora vanno puniti anche i clienti Luigi De Siervo AD Della Lega Serie A E soddisfatto per gli sviluppi Dell'inchiesta Tuttavia ritiene Che i passi da completare Per debellare La pirateria Siano ancora tanti Vanno puniti Anche i clienti Le notizie di spalla Continuiamo con il calcio Dopo la vittoria Del Napoli Sul Liverpool Per 2-0 In una grande serata Di calcio Parla Ancellotti Champions Così gli azzurri Sono entrati Tra i grandi E poi Per il controcampo Ha svalordito Mario Ruida Da esubero Ora è diventato Intoccabile Di taglio basso I 60 anni Di Giancarlo Siani Giornalista E uomo Per bene L'anniversario E l'eredità Da non dimenticare Mentre Nei box in alto Tre show All'arena Flegrea Ad Alessio E D'Angelo Litigare ci ha fatto bene Cantiamo la nostra vita E poi L'anticipazione Sempre per la cultura I suoni del Settecento Quando Napoli Era capitale Di cultura Questa è la prima pagina Del mattino nazionale Sul mattino di Salerno Invece Vediamo quali sono I principali titoli Nella prima pagina Andiamo a parlare Della scuola Cellulare in classe 30 alunni Sospesi Stop Cyberbulli Raffica di sanzioni Negli istituti salernitani Arriva la task force Dell'ufficio regionale Ancora polemiche Dopo il video Della prof Sospesi Per aver utilizzato Impropriamente Il cellulare In un orario scolastico Del salernitano Fino a giugno Sono risultati Destinatari Di sospensione 30 studenti Di varie età Le scuole superiori Interessati principalmente Ragazzi delle classi Intermedie Dove la mancanza Di educazione Sull'uso corretto Dello smartphone Diventa la principale Causa Di provvedimenti Disciplinari E ancora il commento Ma se nessuno Trova il coraggio Siamo tutti Incolpevoli Bassano Bassano Se tu alzi la mano Chi non ha riso Della prof Derisa Nel video Che Il web Ha amplificato Fino all'impazzimento Un'agonia Contro la quale Sono partite corali Le condanne Dei benpensanti E la solidarietà Di insegnanti Sempre più sotto pressione Nella fotonotizia La fede San Matteo Entra in comune Messaggio cristiano E laico Il sindaco A Bellandi Ha già la stima Di tutti Centropagina La sentenza Piazza della Libertà I Raenone Vincono l'ultimo round Il tarbocce Il ricorso Delle imprese concorrenti Rem Completerà L'opera Il cantiere Può partire subito E poi Per la sanità Parrucchiere Dei VIP Morto a Ruggi Quattro medici Finiscono a processo Spostiamoci Di spalla Renzi Alto là Dei campani Scelta bizzarra E sbagliata Solo tra qualche mese Vedremo Se Italia Viva La nuova creatura Politica di Renzi Attacchirà Attacchirà Davvero Tra i Democrat Campani Perché ad oggi Le adesioni Si contano Appena sulle dita Di due mani Nessuna adesione Tra i sindaci napoletani Né tra i consiglieri Regionali Appena Un parlamentare In carica Gennaro Migliore Ha detto sì Nonostante il pressing Degli ultimi giorni Anche se il partito Di Renzi Per ora Rimane un'operazione Volutamente Attestata A livello Parlamentare E ancora L'ambiente Incendio Alla MGM Incubo di Ossina Valori superiori Al rogo Di taglio basso Di taglio basso Il concerto evento Arbore Un live brioso E popolare Per il patrono San Matteo Giornata di festa Continua per i salernitani Tra panini Con la milza Solenne processione E dopo Lo spettacolo Di fuochi d'artificio Appuntamenti D'eccezione Arricchiti dal concerto Di Renzo Arbore E l'orchestra italiana Che si terrà Sabato 21 Alle 22 Per il calcio Salernitana Trasferta Ostacoli Mini charter E yellow Fuorigioco Problemi per il transfer Di Ertois E poi Ancora Calaio Il talent scout Scoprirò gioielli Anche per strada La nuova vita Dell'arciere Emanuele Calaio Da ieri L'altro È un ex calciatore Della salernitana Da oggi Un nuovo dirigente Del settore giovanile Granata Questa è la prima pagina Del mattino di Salerno Ancora Andiamo sulla città Vediamo che in apertura Si parla del caso rifiuti In particolare Per quanto riguarda La discarica Di parapoti Ma anche Il caso Dopo gli incendi Verificati Si è a battipaglia Vediamo il titolo Che sintetizza I due casi Emergenza rifiuti Il governo Chiude parapoti Difita A regione e provincia Sulla mancata Messa in sicurezza Della discarica Lavori In un anno O il commissario A battipaglia Intanto Picco di diossina Dopo i roghi Ponte Cagnano 20 milioni Per il compostaggio Nella fotonotizia Passione segreti Dei salernitani Fantacalcio Siamo tutti Mister Ancora Storie Della youth league I piedi buoni Vanno via Bomber d'oro In Europa Per le notizie Di fondo Il calcio Violento D'aspo Di gruppo Torna L'incubo Per 35 Tifosi Granate Ancora Nocere inferiore Caos Allo sportello Prenotazione Prenotazione Aggredita L'addetta Mentre a Sarno Indagini sul viadotto Canfora Preoccupato No Ad una nuova Genova Bis Invece di spalla Salerno pulita Costretta a firmare Una paga dimezzata Questa la denuncia A Scafati Manager antifurbi Resta al vertice Axe Mentre a stanza Il piano sociale Di zona Chiude L'asilo nido Nonostante le iscrizioni Di 14 bambini Il titolo Non nascono bimbi Chiude L'asilo nido Questo è il titolo Per la città In alto Il caso di cronaca Finge di essere Un carabiniere Rapina La massaggiatrice Cinese E di taglio basso La festa di San Matteo San Matteo unisce Non divide Il braccio del santo Al comune Incontro tra Bellandi E il sindaco Vigilia Della festa Del patrono Con il solito sorriso largo E le braccia aperte Per la prima volta L'arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi Entra Nell'atrio del duomo Con la statua Di San Matteo Ad attenderlo Il sindaco Vincenzo Napoli I rappresentanti Istituzionali Della città Bellandi Poi ha sottolineato L'importanza Della presenza Delle figie Del patrono All'interno Del comune Andiamo Nell'agronocerino Monito del vescovo Ai politici Stop litigi Ancora prima pagina Per la costruzione Per la costruzione di Piazza Fatti la denuncia La denuncia Del sindaco Al sindaco Del consigliere Formisano Parteciperanno Allo sciopero Generale Invece I commercialisti Salernitani Che sono Sul piede di guerra Queste le prime pagine Quindi questi principali titoli Per i vari quotidiani Salernitani Ora torniamo Sul mattino nazionale Andiamo ad approfondire Alcuni dei temi Che abbiamo visto In particolare Per gli arresti Arrivati a seguito Della scoperta Della pirateria digitale Per quanto riguarda Alcune tv pirate Vediamo TV pirata Sgominata la cupola Del pezzotto 5 milioni di clienti Oscurata IPTV Extreme Codes Troffati Colossi Sky Premium Dazon E Netflix Blitz Della guardia di finanza 8 ordini d'arresto La base Tra Napoli E la Grecia Accertamenti In mezza Europa Giro d'affari Di 200 milioni L'anno Possibili Emulti Fino a 25 mila euro Vediamo Una parte Dell'articolo Pirateria televisiva Scoperta Una colossale Frode telematica Organizzata A partire dal 2015 Come confermano Le indagini Delle procure Di Roma e Napoli Ma anche di Eurojuice Visto il carattere Internazionale Del giro D'affari Siamo all'evoluzione Del napoletanissimo Pezzotto Come emerge Dal decreto di sequestro Firmato dal GIP di Napoli Della diffusa Piattaforma Streaming Extreme Codes Vera E propria cabina Di regia Che interrogava I codici giusti In cambio di soldi 25 indagati Bloccati conti correnti In mezza Europa Arrestato Papaconomo Ritenuto Uno degli inventori E dei gestori Della piattaforma Bloccata Le multe Rischiano multe salate Anche clienti Che potrebbero Incappare in sanzioni Fino a 25 mila euro Per non contare Il rischio Reclusione Da sei mesi A tre anni Come spiegato Da colonnello Reccia Andiamo Avanti Diablo Ulisse Belzebu Così via chat Si fabbricavano I canali alternativi Da 10 a 20 euro Al mese Chiudiamo questa pagina Ancora Andiamo A parlare Di politica Con l'esito Del voto Per l'autorizzazione A procedere Nei confronti Del deputato Di Forza Italia Che ha Fatto registrare Una spaccatura All'interno Del neo Governo Giallo-Rosso Vediamo Incidente Pilotato Per lanciare Un segnale Agli Azzurri In Senato Conte Scerpa Grilli E Demma Lavoro Nuovo gruppo Per rendere Renzi Non più ago Della bilancia Questa potrebbe essere L'ipotesi L'ex premier Avrebbe voluto Dare la zampata Ma a fare tutto Sono stati 5 stelle Con le loro assenze Intanto Per quanto riguarda Il nuovo partito Di Forza Di Italia Viva Di Renzi Arriva Al suo interno Anche Una Anche La senatrice Di Forza Italia Vediamo Il titolo Dopo la scissione Ecco i 26 deputati Di Renzi Al senato Primo arrivo Da Forza Italia Proporzionale Il PD frena Con l'ex premier Colanino Eferri La consatti Basta Anti-europeismo A Palazzo Madama Verso L'accordo Con il PSI Per l'utilizzo Del simbolo E con questa pagina Ci fermiamo Per una breve pausa Pubblicitaria Torneremo tra pochissimo Restate con noi Bentornati alla seconda parte Della nostra rassegna stampa Andiamo a sfogliare le pagine Dedicate alle notizie Della provincia di Salerno Partiamo dal mattino E andiamo Nelle pagine di primo piano Lo abbiamo visto anche Dalla prima pagina Il caso per quanto riguarda La lotta contro i cyberbulli Con le nuove disposizioni Che hanno portato anche Alla linea dura Nei confronti di 30 studenti Che sono stati sospesi Per l'utilizzo improprio Dei cellulari in classe Vediamo il titolo Cellulari in classe Ora in linea dura 30 studenti sospesi Uso improprio Degli smartphone Raffica di sanzioni Nell'ultimo anno L'ufficio scolastico Una task force Per contrastare Il cyberbullismo Il caso si è scatenato Dopo la pubblicazione Di un video Di una docente Da parte di alcuni ragazzi Che aveva anche Suscitato ilarità Tra un po' Tra tutti gli utenti Ma che aveva comunque Creato disagi Alla stessa docente Infatti andiamo avanti Alla regina Margherita Si prova a tornare Alla normalità Noi primi a partecipare Alla campagna Di sensibilizzazione E poi la protesta Docenti precari All'assalto Arriva la raccolta Di firme Sono 650 salernitani Con contratti A tempo determinato Che stanno coprendo Le cattedre Come tappabuchi Sul piede di guerra I professori precari L'avvio dei concorsi Ancora lontano La mancata attivazione Dei percorsi abilitanti Fa scattare La raccolta firme In campo 650 professori salernitani Di terza fascia E non abilitati Che in questi giorni Stanno coprendo cattedre A tempo determinato Per l'avvio regolare Delle attività didattiche In campagna Sono 3500 E docenti non abilitati Con almeno tre anni Di servizio Che chiedono La stabilizzazione Dopo anni Di precariato Andiamo avanti Il commento Se il coraggio manca Siamo tutti bassano E non è colpa nostra E poi l'iniziativa Giornate europee Del patrimonio In mostra le foto Del Sabatini Menna Chiudiamo questa pagina Dedicata alla scuola Andiamo avanti Sempre sulle pagine Del mattino E parliamo Della politica Parliamo del nuovo partito Costituito Dall'ex premier Matteo Renzi Tra i primi Ad aderire Ricordiamolo Tommaso Pellegrino Presidente Del parco Del Cilento Il sindaco Di Sassano Anche Domenico Cartolano Ha manifestato Un certo interesse Ma per quanto riguarda Invece deputati E senatori Della campagna Al momento Non c'è nessuna Ufficializzazione A parte Migliore Che ha dato L'ok Ad aderire Al progetto Dell'ex premier Vediamo Il titolo La politica La scissione Terremoto Renzi Altolà dei campani Scelta Sbagliata Il governatore Scarica L'ex premier Così si alimentano Solo divisioni L'amarezza Del deputato Siani Ringrazio Matteo Ma resto Nel PD Quindi Al momento Per quanto riguarda Il Parlamento Non ci sono Ricordiamo A parte Gennaro Migliore Non ci sono Adesioni Al nuovo Partito Di Renzi Infatti Pochissime adesioni A Italia Viva La stoccata Di Bassolino Si conferma Incapace Di fare Autocritica E sempre Questo Nuovo partito Crea Anche Scompiglio All'interno Del centrodestra Ma in particolare In Forza Italia Vediamo Italia Viva O Carfagna Il dilemma Di Forza Italia E poi Ancora Sul tema C'è l'intervista Pubblicata Di Salvatore Gagliano Con Toti Tornerà Centrale Che ha Consenso Sui territori L'ex consigliere Regionale Aderisce Invece A Cambiamo Il nuovo Partito Di Toti Del governatore Della Liguria La struttura Verticistica Di Forza Italia Non funziona Più Queste Le parole Di Salvatore Gagliano Quindi insomma Le varie scissioni Che si stanno Registrando In questi ultimi Giorni Tra i partiti Maggiori Proprio PD E Forza Italia Lasciamo la politica Andiamo ora Sulle pagine Della provincia Di Salerno Rogo Alla MGM Ora è incubo Dossina L'ARPAC Le fiamme Hanno sprigionato Esalazioni nocive Superiore A quelle registrate Dopo l'incendio Di Avellino Fronte Alba I sindacati Chiedono un incontro Con la francese Sempre a battipaglia Task force Sul territorio Per prevenire Altri fuochi Centropagina Ponte Cagnano Compost La regione stanzia I fondi E protesta Finanziamento Da 20,5 milioni di euro Per avviare L'eco distretto I comitati Lanzara Non ci ascolta Di taglio basso Monte Corvino Pugliano Parapoti Chiola a Roma Il ministero Subito bonifica Mentre ad Agropoli Carabinieri Arriva a Garello Una presenza capillare Per le notizie di spalla Miasmi Cariello Non vengono Dall'impianto Ma è polesso Estremica Questi alcuni dei titoli Sul mattino di Salerno Andiamo invece sulle cronache Partiamo dalle pagine Di primo piano Con la decisione Del Tar Via Libera Ora la realizzazione Di Piazza della Libertà Vediamo Tar respinto Il ricorso Del Lati Via Libera L'azienda di Rainone Lentini Abbiamo atteso Fino ad oggi Senza iniziare il lavoro Ora però Si può ripartire Per terminare Una grande opera Secondo i giudici Infatti La giudicazione Effettuata dal comune È regolare Stiamo su questa pagina Fusandola Il canale Si tinge di rosso Ancora una volta Interviene l'ARPAC Per effettuare Nuove analisi E poi La replica Possiamo anche Non finire in 26 Mangio e dormo Come tutti i giorni Il consigliere Pietro Stasi Replica alle parole Del capo staff Chiudiamo Chiudiamo questa pagina Dedicata alle notizie Da Salerno Andiamo sulle pagine Della provincia E parliamo in particolare Però del caso Di Battipaglia Con l'incontro Presso in prefettura L'incontro di vertice Con il prefetto Per garantire La sicurezza Di Battipaglia Vediamo Caso Battipaglia Il tavolo è permanente La sindaca Nei controlli Sconti a nessuno Ieri Il vertice Il prefetto russo Non è necessaria La presenza In loco Dell'esercito E ancora La nube tossica Parla Cecilia Francese La sindaca di Battipaglia Nessun pericolo Per l'agricoltura E poi Il punto Dell'assessore Bruno Senza norme Antincendio Si chiudono gli impianti Ancora Torniamo sull'articolo Curcio Visto la voglia Di creare qualcosa Che ottimizzi Risorse E portare Il modello Su scala nazionale Lo Stato In questa partita C'è E non molla Di un centimetro Si aspetta Per il risultato Dei controlli Sui terreni La diossina Nell'area Solo per un giorno Sfora L'1% Chiudiamo Questa pagina Andiamo ora Sulle pagine Della provincia Di Salerno Per quanto riguarda La parte più a sud Della provincia Di Salerno Vediamo Andiamo a Teggiano Il caso Bimba portata in Russia Dalla madre Presentata Denuncia Per rapimento Non più solo Per sottrazione Di minore all'estero La donna È stata già condannata L'uomo è andato in Russia Ma una volta giunto Nei pressi degli Urali La donna La donna è fuggita via Ed a inizio maggio Non fa avere notizie Di sé Restiamo a Teggiano Chiude lo sportello Europa Il consigliere Morello Frutto delle beghe di palazzo Vincenzo Quagliano Ha già consegnato Le chiavi Della sede Lo ha fatto domenica Sabato scorso Scusate E poi L'altro caso Andiamo a Sanza Dove è chiuso L'asilo nido Per decisione Del responsabile Del piano di zona Antonio Florio Polemiche Da parte del Sindaco Esposito Vediamo Il piano di zona Non attiva L'asilo nido A Sanza Il sindaco Esposito Sulle barricate Combatteremo con forza Perché venga attivato Il servizio Ricordiamo Che 14 Bimbi Erano già iscritti Perché le iscrizioni Erano partite All'inizio di settembre E per il piano di zona 14 Bimbi Erano troppo pochi Era un numero Troppo esigue Per poter garantire Il servizio Dell'asilo nido Restiamo a Sanza Ieri Nei giorni scorsi Brumotti Vittorio Brumotti Brumotti è stata sulla vetta Del Monte Cervati Per le sue acrobazie Con la bici Per promuovere Il territorio Del parco Vediamo Acrobazie ed emozioni Sul tetto della campagna Brumotti si esalta Sul Monte Cervati Questo il titolo E con questa pagina Dedicata alle notizie Della provincia di Salerno Chiudiamo la nostra Rassegna stampa Come sempre vi ricordo Il nostro appuntamento Alle 13.45 Con il TG di Uno News Grazie per averci seguito E auguro a tutti una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti